andiamo giorgino andiamo dare da mangiare al pappagallo va bene mamma ti accompagno ma mamma che c'è la gabbietta aperta oh no il pappagallo non c'è accidenti dove sarà andato guardiamo in giro per casa qui non c'è ho guardato anche sopra e non c'è speriamo che non sia volato via no mamma le finestre sono chiuse e prima l'ho visto in gabbietta ma mamma sì che c'è giorgino c'è una cosa strana cosa il gatto ed ora cosa ha fatto il gatto parla ciao